Allora, ormai il risultato è quasi definitivo, sono ormai 4 le sessioni su 6 che si sono chuse e la tendenza è quella che vede proprio Andrea Monti come primo candidato. Qual è quindi la sua prima reazione a questo risultato? Vi spiace, ovviamente si corre per vincere, però bisogna prendere atto, evidentemente lazzate non è ancora pronta al cambiamento, quindi si prende atto, ovviamente si guarda qual è reale la percentuale di persone interessate, visto così non sembra che sia un lazzatese comunque su 3, no, anzi su 4 che ha scelto ancora di proseguire per questa strada, bisogna capire perché gli altri 3 sceglierebbero altro ma non si sono espressi, prendiamo atto. Vi aspetto a un periodo di opposizione, quali sono poi? Seria come solito, quali sono poi intime, su quali? Gli sprechi sicuramente, gli sprechi che ci sono, grazie, e il sociale, grazie, a lei.